Tornano i tempi dove la fiducia prende il posto della tristezza, dove la specializzazione prende il posto dell'improvvisazione, dove il classico prende il posto del trendy. Tornano i tempi delle buone maniere e delle condivisioni, tornano i tempi dove una banca non ti guarda troppo dall'alto né troppo dal basso, dove il denaro è importante ma rimane uno strumento, dove una banca fa solo la banca. Alla Banca Popolare di Vicenza tornano i tempi che piacciono a noi. Banca Popolare di Vicenza.